No, non cambiamo, non cambiamo. Complimenti signorina, gran bella casa, ma scusi perché vuole il mio parere? Ma Jerry, lei non è solo vicino, lei è di casa. Sì, come Caleffi, guardi che ho visto, sa, la trapunta Caleffi con le sue lenzuola. È così bella che da sola arreda tutta la casa. È così soffice Caleffi che mi fa sentire a volte in un morbido abbraccio. Morbido? A chi lo dice? E poi che colori, che fantasie, sempre attuali, eleganti. In uno stile tutto italiano, insomma, se vuoi una casa alla moda, devi avere la trapunta Caleffi. E che dormite! Dormite, eh? Sì, e qui cosa c'è? È la camera di mio nipote, signor Jerry. Eh, Caleffi è anche qui, d'altra parte è logico, Caleffi porta il mondo Disney nei sogni dei bambini con le sue trapunte, le sue lenzuola, i cuscini d'arredo. Ma che meraviglia, questa trapunta con Winnie the Pooh. E ci sono anche tante altre belle fantasie come Topolino o le mitiche principesse. Di così divertenti che a uno viene voglia di tornare bambino per dormirci dentro. Sì, anch'io sogno di essere la sua principessa Disney. Ma che bei divani! E poi c'è anche lo scaldotto Caleffi. Beh? No, dicevo, il mitico trapuntino da salotto creato per il piacere e di relax. Sì, è così coccoloso che quando ce l'hai non ne puoi più fare meno. Certo che lei si tratta bene, eh? Sì, ma qui manca ancora qualcosa. La grande novità Caleffi. Il gran scaldotto, nato apposta per il letto. Geniale. Caleffi, qualità tutta italiana. Ma Gerry, va già via. Sì, solo Caleffi è di casa. Mica io. Novità da Swiffer. Swiffer, legno e parquet. Il nuovo prodotto creato per la cura del tuo parquet e dei tuoi mobili. Perché nutre e lucida il legno? Grazie alla formula con cera d'api. Nuovo Swiffer, legno e parquet con cera d'api. Il legno prende vita. Radio DJ, prova a prenderla. La forfora è una musica che si ripete, falla smettere. Garnier Frutti, shampoo anti-forfora, anti-ricomparsa. Ha il concentrato attivo di frutti. Agisce dalla prima applicazione. Ed è efficace per quattro settimane. Addio alla forfora. Garnier Frutti, anti-forfora, anti-ricomparsa. Garnier, natura ad alta tecnologia. 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 Vuoi apparire più giovane in 14 giorni? Il nuovo fondotinta Revlon con Botafir riduce l'evidenza delle rughe fino al 50% in due settimane. Age Define Makeup con Botafir di Revlon. Con tutto relax di team, parli e mandi messaggi a 0 centesimi verso tutti. E il Samsung Z510 è incluso. Adriana, venga, le presento un mio collega, Rodolfo, poeta dialettale. Grazie. Vai. Anche le stelle ce lo sanno. Se son rose, fioriranno. E se son caghi. E beh, si son caghi. Merce Adriana, tante cari cose. Ma che si scelgola? Ma ha detto di. Musenato. Tanto poi al più metro con la pizza del Far West. E trottiamo come parti, proprio come farete. Oh Rodeo, su andiamo a galoppare. E se poi saremo stanchi iniziere madondella. Piccolo Rodeo, sotto a Chitrotta. Il più film da interpretare è la vita. Morellato, gioielli da vivere. Con Facile Fiat, fino a 3.000 euro per il tuo usato e 72 mesi di finanziamento con prima rata a marzo. Chiudi gli occhi. Dove vorresti essere? In un'isola da sogno? Con Estatè impaglio ogni mese 5 vacanze per 2 persone in un ventaclub a tua scelta. E 30 navigatori TomTom Go 300. E fa te il gusto che ti rapisce. Abbiamo messo l'alta digeribilità in fresco. Da oggi Zimil è anche microfiltrato pastorizzato. Nuovo Zimil, l'alta digeribilità nel banco frigo. Il Sole 24 Ore Plus 24 regalano la collana Capire i mercati finanziari. Sabato 26 con il Sole 24 Ore Plus 24 in regalo il terzo libro Le obbligazioni. Perché negli investimenti e nello spagno. Niente da fiducia come la conoscenza. Con Gled Soffi la prova è il soffio. Un soffio, 7 soffi, 39 soffi. Gled Soffi rilascia la stessa quantità di delicato profumo ad ogni soffio. 74, 230, 723. Gled Soffi. Gled, l'accogliente fragranza di casa. Lui è una macchina efficiente, risoluta e calcolatrice. Prende ciò che vuole, quando vuole e scompare. Ciò che voglio da te, Stan, è un worm, ma dovrei chiamarlo Hydra. Noi entriamo dal telefono, aggeriamo il firewall, sganciamo l'Hydra e aspettiamo seduti i soldi. 9 miliardi e mezzo. Una somma assolutuosa. È la tua unica occasione. Coglila, prenditi i soldi e taglia la corda. Codice Swarfish. Prima TV Canale 5, lunedì alle 21. Lenti a contatto O2 Optics, più ossigeno per la salute dei tuoi occhi.